Ancora problemi per il Consorzio Universitario della provincia di Agrigento che, oltre a fronteggiare la grave crisi finanziaria che ne minaccia seriamente la sua stessa esistenza, si deve occupare anche dell'immobile di Via Tenea, ovvero dell'ex ospedale. Il vetusto stabile è destinato a diventare un residence per studenti. A causa dei continui distacchi d'intonaco, nei mesi scorsi era stato oggetto di un'ordinanza di messa in sicurezza da parte del Comune di Agrigento. Non avendo le risorse necessarie per eseguire i lavori, il Consiglio di amministrazione del CUPA aveva chiesto l'intervento dell'Ateneo di Palermo. In assenza di risposte, i responsabili del Consorzio Universitario Agrigentino hanno deciso di spedire, mediante Corriere Espresso, le chiavi dello stabile a Palermo nell'auspicio che dal rettorato di Piazza Marina si occupino della vicenda.